Riparte dalla tenuta Santi Giacome e Filippo la nuova stagione della Megabox Vallefoglia, la prima in A1. La squadra del presidente Ivano Angeli debutterà in campionato il 10 di ottobre a Conegliano. Un'emozione sicuramente grande, poi quest'anno ancora di più perché comunque essere saliti di categoria a massimo livello della pallavolo femminile è qualcosa che non è per tutti. Quindi modestamente noi ci siamo riusciti come società, come gruppo di imprenditori qui locali, quindi siamo orgogliosi di questo. Si gioca a Urbino purtroppo per situazioni che a Vallefoglia non erano permesse e comunque noi dovevamo giocare da qualche parte. Il titolo ce l'avevamo, abbiamo scelto Urbino perché forse nella situazione di scelta fra Pedro e Urbino, Urbino era quella che ci dava più caratteristiche migliori per fare il campionato. Il nostro obiettivo primario è quello della salvezza, speriamo di raggiungere il più presto possibile, magari se poi questo avviene possiamo toglierci anche qualche altra soddisfazione. Ma comunque l'obiettivo primario è la salvezza perché arrivare in A1 e ambire a posizioni maggiori non è auspicabile. Per il campionato sta andando bene, la squadra è nuova e quindi accanto a contenuti di carattere atletico e tecnico stiamo mettendo dentro la conoscenza delle ragazze. Perché è chiaro che come ben sapete la pallavolo è uno sport dove tutto avviene in uno spazio molto ristretto e la conoscenza reciproca è fondamentale. L'obiettivo è quello da salvarsi assolutamente perché è una società che è molto cresciuta in pochissimo tempo, quindi basti pensare che è il terzo anno di fila in cui siamo debuttanti. E questo va dell'incredibile perché eravamo debuttanti in B1, debuttanti in A2 e siamo debuttanti in A1. Adesso è il momento di fare le cose con calma perché comunque le prime 6-7 in classifica hanno obiettivamente degli obiettivi che noi in questo momento non possiamo porci. Siamo una matricola, quest'anno salvarsi sarà il nostro scudetto. La pallavolo è uno sport che è fatto per la gente, l'anno scorso abbiamo sofferto tanto per pensare che l'anno della B1 avevamo tantissima gente al palazzetto e ha fatto la differenza. L'anno scorso giocare dentro casa o fuori casa quasi non aveva nessun significato, nessuna differenza. Beh venga la gente anche a costo di perdere qualche partita in più. L'augurio è quello di avere una squadra competitiva, importante, che promuove l'attività sportiva nel mondo femminile, ma anche promuove una città, un territorio, delle attività economiche che Megabox interpreta fedelmente un'attività molto vivace, molto in crescita, sviluppa un territorio che gioca appunto in Serie A. E quindi anche il territorio gioca in Serie A insieme a Megabox, insieme a questa squadra, che diciamo possa competere tra le prime squadre. Poi sai, dipende l'evolversi della situazione, della bravura e anche delle tifuserie, insomma. Ecco, quindi speriamo una stagione veramente positiva.